10 dicembre lasciamo Calaonda, Playa Calaonda, guardate qua solo delle strade che bella e andiamo in direzione Almeria, proseguiamo, Almeria c'è ancora circa un centennio di chilometri facciamo la costa e vediamo quello che avrà abbastanza siamo qui a Bdera in questo parcheggio, niente male, come potete notare là ci sono due signori che stanno facendo il bagno, mi sembra sempre un po' strano ma in realtà il caldo si fa sentire abbiamo deciso di fermarci qua sulla playa perché è troppo bello e non c'è vento, come dicevo i due signori in acqua ci hanno ispirato, effettivamente approfittiamo, lo spot a barri andiamo a guardarlo più tardi e ci muoviamo ad un pranzo, ciao, ciao, è fatto bene a fermarci sulla playa, il sole scalda di brutto e mi sa che oggi scatta anche il bagnetto, 11 dicembre ecco la ecco la buona fresca gran bel bagnetto, bagnetto fatto, 11 dicembre, anch'io che sono fredolosa ecco la è l'ora di pranzo, andiamo in direzione a Leido e vediamo dov'essi un bello spot sulle playa anche là, pertanto ci avviciniamo a Leido perché c'è un'area sosta che ci servirà nei prossimi giorni per il carico e scarico e intanto abbiamo questo spot in libera sulla playa che dovrebbe essere eccezionale, vi raccontiamo dopo, ciao ecco qua lo spot su viaia, fronte spiaggia guardate in che bel posto che siamo capitati questa spiaggia meravigliosa, siamo circondati dalle serre dove c'è la raccolta di fruttetti, agrumetti, verdura, fiori, di tutto di più spot magnifico, qui c'è un relax unico, anche i nostri vicini sono molto rilassati uno prende il sole, l'altro sta riposandosi nella macca e Giampi fa l'acqua ecco la barba che ha fatto la doccia, si affiglia i capelli al sole, con questa splendida giornata come potete vedere c'è chi fa il bagno, chi prende il sole, un soup e noi facciamo la passeggiata dai passeggiamo il lungo mare su questa passerella, come vedete un paesetto micro paesetto direi di poche case di villeggiatura estiva, fronte mare, niente male neanche qua ormai siamo arrivati a Eleido, ci mancano 5 chilometri, il paesetto principale diciamo questo tutto è il tratto di costa capelli asciutti dai ci siamo, ho fatto una bella passeggiata, veramente un bel luogo, tranquillo, molto calmo c'è un sacco di gente che è qui a mangiare, il ristorantino ma per il resto il paese è veramente super tranquillo, torniamo con Kaimaiwan e pensiamo cosa fare domani